buongiorno a tutti cari mieci elettronauti benvenuti in questo nuovo video dove oggi sotto la lente di ingrandimento c'è questa astra elettrica si è costruita in germania tra le altre cose e chissà se ne vale la pena innanzitutto squadra che vince non si cambia infatti questa pur essendo il modello elettrico è praticamente identico a tutte le altre versioni è basata infatti sulla piattaforma psa e mp2 dove troviamo anche motorizzazioni termiche quindi benzina diesel e anche ibrido plug in l'unico accorgimento estetico sono proprio questi cerchi che sono da 18 pollici e sono aero oltre ad abbassare notevolmente le turbulenze laterali questi cerchi aumentano anche l'efficienza dell'auto mi piacciono particolarmente anche perché hanno scelto di fare un cerchio in lega leggero e diamantato con alcune parti in plastica che sono veramente molto belle un'altra cosa un altro accorgimento è che sulla destra del baule troviamo il loghetto e che sta ad indicare che questa astra è elettrica e per il resto non ci sono altri dettagli che contraddistinguono la versione elettrica dalle altre versioni ma partiamo con il muso beh ragazzi il muso devo dire che mi piace veramente tanto è proprio cattiva questa opel astra qui davanti abbiamo una parte total black con anche il logo total black un po' come già è stato fatto ed è stato visto con la nuova corsa e con anche opel mocha e e devo dire che sta veramente molto bene oltretutto questa larghezza di un metro 86 beh la fa proprio sentire anche presente la calandra stranamente non è completamente sigillata sia nella parte sopra che nella parte sotto andandola ad osservare bene infatti all'interno si possono notare delle tendine che si aprono e si chiudono ovviamente in base alla richiesta che ha l'auto e tutta la parte elettronica diciamo compresa ovviamente la batteria di trazione di andare a raffreddare o eventualmente riscaldare il tutto quindi in pratica sono delle alette attive ma il punto di forza dell'anteriore sono sicuramente questi fari che sono di tecnologia intellilux sono fari led a matrice attiva e devo dire che di notte si vede tutto molto molto bene perché in pratica il comparto ottico comprende 168 punti di illuminazione diversa il che vuol dire che non andremo sicuramente a rischiare di abbagliare qualcuno perché il sistema automaticamente attraverso le telecamere frontali andrà ad identificare dove state puntando i fari se c'è un'auto davanti a voi il sistema andrà praticamente ad oscurarla e illuminare tutto il resto funzionano veramente bene come vedete si sviluppano in orizzontale e poco più in basso troviamo anche i fendinebbia astra elettrica poi è dotata di tutti i sensori di parcheggio ed ovviamente anche il sistema radar decisamente complessi che ci aiutano durante la guida assistendoci in tutti i tipi di manovre ovviamente qui abbiamo anche cruise control adattivo e abbiamo anche un'assistenza di guida completo di livello 2 quindi mantenimento di corsia eccetera eccetera e anche se il muso è abbastanza filante e ad abbassa anche il CX quindi l'impatto con l'aria non abbiamo le maniglie delle portiere a scomparsa e questo mi dispiace un po' e sicuramente però ragazzi compensiamo assolutamente con questo splendido posteriore trovo bello anzi bellissimo questo faro diviso in due dal portellone ovviamente led molto bello poi ancora il logo total black di Opel e la scritta astra per lungo nessuna paura se non trovate il pulsante di apertura in effetti è nascosto ed è proprio il logo una cosa che mi ha stupito molto però è non avere il portellone elettroattuato infatti devo aprirvelo così perché altrimenti se si apre tutto io non riesco più a chiuderlo ovviamente voi non avrete questo problema un gran peccato però è la sua dimensione può accettare un massimo di 352 litri sì è vero abbiamo un doppio fondo però anche quello è decisamente minimo ci stanno solo pochi accessori e come avete visto qui abbiamo un cavo di ricarica decisamente ingombrante che occupa parecchio spazio e ci sta una valigia e un trolley nulla di più nella versione però touring abbiamo un baule da 500 e rotti quindi tanto tanto spazio in più e se ve lo stavate chiedendo no qui davanti non c'è nessun frank ritorniamo però al posteriore perché volevo farvi notare se ve lo siete persi questo piccolo allettoncino molto bello con lo stop centrale in verticale da segnalare poi la buona inclinazione come ogni hatchback che si rispetti oltretutto a livello di visibilità interna non è male fermiamoci ora per un attimo a parlare della sua batteria come vi dicevo prima non è nata da una piattaforma scritta e disegnata su un foglio bianco ma comunque abbiamo una batteria interessante da 54 kilowattora lordi netti 50,8 in celle nmc nickel manganese cobalto ovviamente agli ioni di litio la composizione dei moduli è la seguente 102 celle per 17 moduli che non sono disposti proprio proprio a skateboard perché la batteria è divisa in due parti altra cosa curiosa è che la porta di ricarica è al posteriore destro meglio sicuramente di averla messa davanti io l'avrei messa al posteriore sinistro ma poco importa in ogni caso qui abbiamo una porta ccs2 combo quindi in ac riusciremo a ricaricare ad 11 kilowatt di potenza in dc invece arriviamo fino a 100 questo si traduce in una ricarica casalinga in circa 5 ore e ad una fast db charge dal 10 all'80% ricaricherete in circa 26 minuti quindi assolutamente allineata con tutte le sue competitor e prima di dirigerci verso l'interno vi ricordo che come lunghezza siamo attorno al 4 metri e 37 larghezza già detta di 1,86 metri un'altezza di 1,47 metri con un passo di 2 metri e 67 molto interessante il fatto poi è che questa Opel Astra elettrica può trainare fino a 1700 kg essendo questa una dei pochissimi modelli che c'è in giro perché è un modello che è stato immatricolato in Germania non ho la possibilità di indicarvi al punto P2 quanti kilowatt di potenza diciamo sviluppa quest'auto posso però dirvi ragazzi che sviluppa con il motore anteriore 117 kilowatt 270 newton metro di coppia 170 chilometri orari è la velocità massima e copre lo 0-100 in 8,5 secondi non è brillantissima ma vediamo poi alla guida come si comporta ora direi di vederla un pochino dentro devo dire che gli interni sono veramente ben curati soprattutto i sedili li ho trovati decisamente comodi ma partiamo dalla portiera livello di croccantezza decisamente alto purtroppo purtroppo perché? perché tutta questa parte qui è in una plastica dura mentre invece la parte superiore è di una plastica morbida che mi piace ha una buona trama al tatto mi piace poi anche questa parte qui che è praticamente in Alcantara ok e una parte poi in pelle qui per andare a riposare il braccio tutto il resto è di plastica dura purtroppo come dicevo ma sui sedili c'è proprio una assurdità i sedili sono diciamo orientabili e inclinabili elettronicamente ma non scornono avanti e indietro per scorrere avanti e indietro c'è ancora la vecchia leva una cosa decisamente strana non l'avevo mai visto una cosa del genere però fa niente come sono stati gestiti gli spazi qui dentro? beh, abbastanza bene anche se come vedete abbiamo questo tunnel centrale decisamente invadente non è largo ed è decisamente funzionale ma se ad esempio fosse stato cavo sarebbe stato meglio come vedete qui davanti troviamo un ampio spazio per la ricarica wireless dello smartphone una porta USB-C e anche una presa accendisigari centralmente poi troviamo i classici portabicchieri con il selettore del cambio e la drive mode ah, eh sì, troviamo anche il fastidiosissimo pulsante di accensione le dotazioni, le cromature e i dettagli sono esattamente gli stessi del modello ibrido plug-in lo spazio a bordo non è esagerato ma diciamo che non credo si potesse fare meglio sulla portiera posteriore la qualità dei materiali cala leggermente infatti non troviamo la parte superiore con questa trama molto particolare i sedili però sono sempre in pelle misto alcantara con gli attacchi Isofix a scomparsa altra cosa da segnalarvi ragazzi è che i sedili sono sezionabili 60-40 e la parte centrale può anche ospitare dei carichi lunghi quindi diciamo che abbiamo anche la porticina per gli sci eventualmente Posteriormente centralmente troviamo la gestione della climatizzazione con le bocchette indipendenti e poco più in basso una USB-C per ricaricare lo smartphone un peccato sicuramente avere questo tunnel centrale di un'altezza all'incirca di 8 cm pur essendo omologata per 5 beh il quinto sicuramente in un lungo viaggio evitarei alla guida la prima cosa che si nota è il fatto di non avere una e-pedal drive quindi la frenata rigenerativa non è ben sfruttata a questo punto ma abbiamo il pulsante B di brake che ci dà la possibilità di andare ad insistere un pochino di più sulla frenata rigenerativa utilizzando infatti la modalità B si ha una frenata rigenerativa un pochino più elevata quindi non abbiamo sempre una e-pedal drive quindi anche se andremo a giocare un pochino di anticipo con il pedale dell'acceleratore quindi rilasciando un po' in anticipo il pedale dell'acceleratore difficilmente non andremo mai a premere il pedale del freno questo perché Opel ha deciso di non introdurre una nuova funzionalità all'interno della sua Opel Astra anche perché la clientela che Opel crede andrà ad acquistare quest'auto è una clientela che proviene principalmente da motore endotermico e che quindi sa benissimo cosa vuol dire andare a pestare sul freno in caso si voglia rallentare diciamo che è una scelta che io non condivido ma che però capisco non solo Opel ha deciso di fare questo genere di scelta ma ad esempio anche BYD che insomma di auto elettriche ne fa e ne fa parecchie quindi credo che sia un pochino una scuola di pensiero da questo punto di vista per quanto riguarda l'insonorizzazione devo dire che guidare questa Opel Astra è decisamente appagante perché non si sentono affatto rumori esterni e non si avverte neanche il sibilo del motore elettrico detto questo abbiamo solo fatto una prova a velocità diciamo da codice quindi attorno ai 130 km orari si sente un pochino di più la presenza di questi finestrini fa arrivare qualche fruscio in abitacolo ma nessun problema uno degli aspetti più belli delle auto elettriche è proprio il fatto che siano auto silenziose per quanto riguarda la tenuta di strada beh parliamo del comparto di ammortizzazione che devo dire svolga un discreto lavoro chiaramente non è un'auto con la quale potrete andarci in pista a divertirvi però diciamo che McPherson all'anteriore ponte torcente al posteriore fanno il loro sporco lavoro ho notato un piccolissimo lag in accelerazione sia quando si è in eco chiaramente che quando si è in sport grazie al pulsante qui posto centralmente possiamo andare a modificare le modalità di guida in eco l'auto è veramente molto molto più calma mentre invece in sport abbiamo tutta la potenza di cui abbiamo bisogno e lo scatto devo dire sia decisamente pronto però poi dopo viene un po' a mancare questo spunto in allungo ed infatti abbiamo una copertura dallo 0 a 100 in 8,5 secondi ma potrebbe essere tranquillamente sui 6 secondi e mezzo se solo avessero voluto che la potenza venisse diciamo scaricata completamente a terra molto probabilmente gli ingegneri di Opel hanno preferito tarpare un pochino le ali a questo motore perché è tanto potente e poteva forse far alleggerire un pochino l'auto sull'anteriore ma non è così infatti l'auto quando si accelera anche tutto fino in fondo non dà nessunissimo problema l'auto non si alleggerisce sull'anteriore e anche le gomme non stridono cosa non da tutti per quanto riguarda poi l'impianto frenante devo dire essere di buona qualità mi sono trovato subito bene con la pinzata sul freno a disco ovviamente freno i dischi sia all'anteriore che al posteriore e pinzano veramente bene la corsa del pedale non è affatto lunga il pedale non è spugnoso ben fatto Opel un'altra cosa ragazzi che veramente ho apprezzato tanto e che sto apprezzando anche in questo momento è proprio il fatto che abbia un raggio di sterzata decisamente breve e infatti si gira dappertutto non so come abbiano fatto essendo comunque tutto lì all'anteriore ma hanno veramente fatto un ottimo lavoro maneggevole, leggera, mi piace e poi Opel ha riempito quest'auto di un sacco di sistemi di assistenza alla guida addirittura abbiamo il sistema che controlla costantemente l'attenzione alla guida quindi se io mi giro e guardo da un'altra parte il sistema mi avverte mi dice di stare concentrato sulla guida e oltretutto abbiamo una guida assistita di livello 2 quindi è possibile andare a premere un pulsante e l'auto si pseudo guida da sola ovviamente fatelo solo ed esclusivamente se andate in autostrada non è ancora affatto pronta per le nostre città le nostre stradine eccetera eccetera come è normale e come lo sono anche tutte le altre poi abbiamo anche il cruise control adattivo e tutta una serie di cose come il monitoraggio dell'angolo cieco la frenata d'emergenza il sistema di controllo anche di collisione posteriore insomma Opel ha fatto veramente un pacchettino completo su questa Astra veramente ben fatto ma è tutto bellissimo? sì nel senso che la plancia mi piace veramente tanto anche se è piena di plastiche ma tutto questo sistema infotainment veramente basic che comunque è formato da due schermi da 10 pollici uno qui davanti per quanto riguarda il quadro strumenti e uno lì centrale rivolto verso il conducente sempre da 10 pollici con un software che non è niente di particolare ma fa quello che deve fare oltretutto poi in questa versione abbiamo anche la presenza del LED UP display lì davanti bello molto chiaro quindi tecnicamente non ci sarà bisogno di andare a guardarsi in giro troppo perché tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno sono espresse là una cosa che ho amato particolarmente è che qui davanti è possibile andare ad inserire la mappa ad esempio quindi io posso andare a vedere esattamente qual è il mio tragitto e lì sull'EDUP display posso andare eventualmente a vedere se devo svoltare a sinistra oppure destra eccetera eccetera siamo lontani lontanissimi da un sistema infotainment dedicato con applicazioni multimediali questo è chiaro però diciamo che quello che serve fa e oltretutto abbiamo anche la possibilità di utilizzare Apple CarPlay e Android Auto è sicuramente comoda per le persone alte e anche comoda per le persone basse e infatti io arrivo veramente tranquillamente ai pedali di acceleratore freno e riesco a riposarmi veramente alla guida non sono affatto rannicchiato ma anzi sono veramente molto molto comodo altra cosa che ho trovato molto intelligente è il fatto che la cintura di sicurezza segua il sedile così che io con pochissimo sforzo possa prendere cintura di sicurezza e mettermela subito appena entro in auto ecco l'unica cosa è lo scorrimento del sedile che pur essendo lo schienale e diciamo l'alzata del sedile elettronica non va avanti e indietro quindi non scorre è una cosa strana che ci sia una leva vabbè il volante poi ovviamente va su, va giù, va dentro e fuori senza nessun problema ovviamente poi abbiamo anche il volante orientabile e i sedili sono ben contenitivi sicuramente devo fare un plauso poi sempre ad Opel per aver ingegnerizzato molto bene la questione della climatizzazione la climatizzazione è praticamente perfetta non si avverte tu imposti la temperatura e lui in automatico fa tutto quello che deve fare i finestrini e il parabrezza non si appannano anche perché il parabrezza ha proprio una rete anti appannamento e anche anti ghiacciamento infatti il sistema prevede in automatico quando in presenza di ghiaccio di andare a riscaldarsi automaticamente oltretutto abbiamo anche l'applicazione quindi Opel Astra elettrica è costantemente collegata al cloud e potrete attraverso l'applicazione di Opel andare a fare tutte quelle operazioni classiche come far partire o spegnere la ricarica programmare la ricarica vedere dove avete parcheggiato e anche chiaramente far partire il climatizzatore quindi pre-riscaldare l'abitacolo eccetera eccetera affrontiamo ora la questione dei consumi questione dei consumi che ha in me è un po' un problema nel senso che il dichiarato della casa come sempre in ciclo VLTP è un pochino più alto del normale qui superiamo i 400 chilometri in realtà in inverno siamo attorno ai 310 chilometri e oltretutto se andiamo ad utilizzarla in autostrada a 130 chilometri orari di media riusciremo a fare più o meno 200 chilometri qui abbiamo una batteria come vi ho detto da 50 kilowattora virgola 8 netti e con un consumo medio che la casa dice stare sui 16-17 che in realtà però sta sui 19-20-21 sicuramente non riusciremo a fare appunto più di 320 chilometri in un misto quindi urbano ed extraurbano anche se però chiaramente tutto dipende ma dipende veramente tantissimo dal vostro piede per farvi un esempio beh io ho un collega che lui ha un piede un pochino pesante e consuma 25 kilowattora ogni 100 chilometri dall'altra parte l'altro mio collega ha un piede un pochino più leggero e consuma 16 kilowattora ogni 100 chilometri quindi voi che piede avete? fatemelo sapere nei commenti come sempre e quindi cari amici elettronauti come vi pare questa Opel Astra elettrica? sono decisamente fortunato per averla potuta provare per voi in anteprima anche perché come vi dicevo questo è un modello tedesco e arriverà penso tra non molto anche a livello italiano si vocifera più o meno nel primo quarto del 2024 quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate come vi ho detto le mie perplessità sono più che altro relative al fatto che manca una e-pedal drive anche perché per il resto l'auto si guida veramente bene anche con la modalità infrenata regenerativa di tipo B ossia brake poi vabbè il motore non è proprio performantissimo però l'abbiamo già spiegato ampiamente durante la guida altra cosa che non mi è piaciuta forse è il bagagliaio che è un pochino piccolo sottotono per un'auto di questo genere che comunque potrebbe anche andare a fare diversi chilometri in autostrada e anche fuori portarvi in qualche gita fuori porta magari con anche un paio di amici quindi ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao